Sì, il dottore ti ha dato indicazioni per caso Ce l'ha pure in bocca Marco Da lei l'arrete? Sì, vai Poverino Eh sì, con me è imbrogliarlo, vogliono passare sotto Già un po' da qua è meglio, giù sta in acqua è meglio Vai vai, aperta la bocca, vai grande Libero? Liberi ragazzi, liberiamolo, liberiamolo Mamma e figlio, eccoli qua, bene Grazie